In quel tempo, Gesù era giunto con la sua compagnia, composta dei soli dodici amici prescelti, nelle vicinanze di Gerusalemme. Allora le mise al corrente degli oscuri presagi sul tipo di accoglienza e sul trattamento che avrebbe ricevuto Colà. Presagi che erano in grave contrasto con quanto i suoi discepoli si ripromettevano con il suo arrivo e la sua permanenza a Gerusalemme. Essi, che pure potevano giovarsi della frequentazione quotidiana e dell'insegnamento di Gesù, nutrivano addirittura, nella loro mentalità giudaica, la sanguigna speranza che Gesù si sarebbe presto presentato in pubblico come un re, per ristabilire lo splendore dello Stato giudaico e la sua indipendenza dai Romani, e che loro, come suoi amici e aiutanti, sarebbero stati ricompensati con potere e onore di tutto quello che nel frattempo era loro mancato. Essi, infatti, non avevano ancora bandito queste speranze e non avevano ancora fatto proprio il significato spirituale del regno di Dio come dominio della legge, della virtù tra gli uomini. Giunse allora da Gesù la madre di Giovanni e Giacomo. Si gettò i suoi piedi e quando Gesù le chiese cosa volesse, gli rivolse insieme con essi una preghiera, perché credevano di vedere avvicinarsi la realizzazione delle loro attese. «Quando tu costruirai il tuo regno, innalza i miei figli al ranco più vicino al tuo». Gesù diede loro questa risposta. «Voi non vi rendete conto di quel che chiedete. Siete pronti a vivere per il dovere che avete assunto su di voi, per il miglioramento degli uomini, a prendere parte al mio destino e a tenderlo con me qualunque sia? Ed essi risposero, verosimilmente nella speranza che questo non sarebbe stato altro che splendido, «Sì, siamo pronti». Allora Gesù disse, «Fate dunque il vostro dovere e sottoponetevi serenamente al vostro destino, ma non aspettate per questo di veder soddisfatte le speranze che mi avete manifestato con la vostra preghiera. Solo la purezza del vostro sentimento, sincero di fronte alla divinità e non soltanto di fronte a me, può stabilire il valore che avete davanti alla divinità». Gli altri amici di Gesù erano rimasti molto amareggiati alla richiesta dei due fratelli. Gesù diede quindi loro questa indicazione. «Voi sapete che la ricerca del potere è una passione molto seducente e diffusa tra gli uomini. Essa si esprime negli ambienti più importanti quanto in quelli più ristretti, ma dalla vostra società essa deve essere bandita. La vostra considerazione reciproca deve essere riposta nel reciproco gradimento e nel mettervi ognuno al servizio dell'altro. «Così come il fine della mia vita non è mai stato quello di comandare agli altri, ma di servire l'umanità e per questa sacrificare la mia vita». Riguardo alle attese di coloro che lo accompagnavano, Gesù avrebbe loro ben volentieri concesso per amicizia una parte brillante in questa fase ormai imminente della sua potenza. Gesù insegnò loro la differenza del valore degli uomini con la seguente parabola. Un principe si mise una volta in viaggio per una terra lontana, per assumerne il governo. Prima di partire da quella che già reggeva, egli affidò ai suoi servitori dieci mine, perché le mettessero a profitto. I cittadini gli inviarono una legazione per annunciargli che non lo avrebbero mai riconosciuto come loro principe. Nonostante questo, al suo ritorno, egli mantenne il trono. Allora egli chiese conto ai servitori dell'impiego del denaro che aveva loro consegnato. Il primo disse, Con la mina che mi hai affidato ne ho guadagnate dieci. Bene, rispose il principe, perché quel poco lo hai bene amministrato. Voglio darti ancora di più, e ti affido il governo di dieci città. Il secondo, con la sua mina, ne aveva guadagnate cinque, e il principe gli diede il governo di cinque città. Un altro disse, Io ti rendo la tua mina, che non ho perso, perché l'ho conservata con gran cura. Io avevo paura di metterla a rischio in qualcosa, perché tu sei un padrone molto esigente, vuoi prendere dove non hai riposto niente, e raccogliere dove non hai seminato. La tua giustificazione ti condanna, gli rispose il principe, perché se sapevi che sono un uomo esigente, e che voglio raccogliere dove non ho seminato, perché non hai dato il tuo denaro ai banchieri, per poi potermi restituire la tua mina con gli interessi. Tu perdi il tuo denaro, ed esso sia di colui che ne ha guadagnati dieci. Colpì gli altri servitori che colui che aveva già dieci mine ne dovesse ricevere ancora una, ma il principe disse loro, Chi ha bene impiegato ciò che gli è stato affidato lo vedrà aumentare ancor più, ma colui che ha impiegato poco o addirittura per niente ciò che gli è stato affidato si rende per questo indegno anche di ciò che gli è stato dato. E adesso portatemi davanti quelli che hanno rifiutato di darmi ubbidienza, perché possa infliggere loro la pena. Come questo principe, così Dio giudica il valore degli uomini in base al buon uso delle forze che a loro concesse e all'obbedienza alle leggi morali sotto le quali si trovano. Anche qui Gesù si trovava adesso a Gerico, a circa sei ore da Gerusalemme. I farisei fecero di nuovo mostra di riprovare che Gesù avesse fatto sosta nella casa di un duganiere di nome Zaccheo. Per vedere Gesù, al quale non aveva potuto avvicinarsi per la gran folla ed anche perché era molto piccolo di statura, Zaccheo si era arrampicato su un albero e fu sorpreso dell'onore che Gesù gli riservava scegliendo la sua casa per riposarsi. Dal momento che si rendeva conto del concetto che Gesù doveva essersi fatto di lui per via dell'impiego svolto e sentiva di apparirgli in una luce cupa, rese noto a Gesù il miglioramento del suo modo di pensare di una volta, dicendo «la metà dei beni da me acquistati la do in aiuto ai poveri e ripago con il quadruplo il danno di colui che ho prevaricato». Gesù diede prova di compiacersi di questo ritorno all'onestà perché il suo proposito sulla terra era quello di portare gli uomini su questa strada. Cadeva allora la festa di Pasqua e la maggior parte dei giudei si erano ritrovati per l'occasione a Gerusalemme. Gesù si trattenne ancora pochi giorni nei pressi di Gerusalemme in una località di nome Efraim, precisamente a Betania. A un pranzo, che era stato guidato per lui, serviva anche una donna, Maria, un'amica di Gesù, che gli unse i piedi di un balsamo prezioso asciugandoli poi con i suoi capelli. Un apostolo di Gesù, Giuda, che amministrava il denaro della compagnia, osservò in proposito che si poteva fare uso migliore di quell'unguento se si fosse venduto per distribuire il denaro ai poveri. Giuda sperava forse che il denaro finisse piuttosto nella sua borsa e al momento della sua distribuzione tra i poveri egli non si sarebbe dimenticato di sé. Ma Gesù lo avvertì che lui non avrebbe, con il suo biasimo, arrecato pena al cuore di Maria, avendo colto l'espressione dell'amicizia nel suo gesto, paragonabile a quello con il quale si dimostra il proprio amore per i morti, imbalsamandoli. La sua asserrita carità nei confronti dei poveri, egli e del resto avrebbe sempre avuto occasione di mostrarla. Nel frattempo, l'Alto Consiglio di Gerusalemme, che attendeva che Gesù, come ogni giudeo, arrivasse alla festa, si risolse ad arrestare Gesù in quell'occasione, per poi farlo condannare alla pena di morte, riservandosi, tuttavia, di rinviare quest'ultima dopo la festa, nel timore che i suoi concittadini galilei, allora presenti, volessero fare un qualche tentativo di liberare Gesù. L'Alto Consiglio diede quindi disposizione di avvertirlo non appena Gesù fosse stato notato nel Tempio, con l'imbarazzo di coloro che avevano questo incarico, perché nei primi giorni della festa Gesù non si vedeva da nessuna parte. Sei giorni dopo quel pranzo, anche Gesù arrivò a Gerusalemme, e appena giunto in vista della città, gli spuntarono le lacrime agli occhi. Ah, disse, se tu potessi capire ciò che serve al bene tuo, ma questo ti è nascosto, perché il vostro orgoglio, l'ostinatezza nei vostri pregiudizi, la vostra intolleranza, ecciteranno i vostri nemici contro di voi, ed essi vi circonderanno, mettendovi paura ovunque, finché il vostro stato, la vostra costituzione, l'oggetto del vostro orgoglio, non saranno annientati, e voi non sarete sepolti sotto le rovine, senza avere il sentimento e la fama di essere morti nella nobile difesa di una gran cosa. Gesù montava, alla maniera degli orientali, un asino. Un gran numero di coloro che lo conoscevano gli andò incontro per accompagnarlo, tenendo in mano rami di ulivo, e tra i loro canti di giubilo, egli entrò in città. Gesù non trascorse la notte a Gerusalemme, ma a Betania. Tuttavia vi ritornò la mattina dopo per presentarsi pubblicamente nel tempio e predicare. I suoi nemici cercarono di indurlo a compromettersi con domande insidiose, per trovare in parte un pretesto per accusarlo, in parte per metterlo in odio al popolo, a causa del quale non si sentivano tranquilli. In particolare, il gran seguito che egli aveva al suo arrivo aumentava ancor più le loro preoccupazioni. Così gli chiesero, una volta che sedeva nel tempio davanti a una gran quantità di gente in ascolto, con quale autorizzazione svolgesse il compito di insegnare pubblicamente. Gesù disse, lasciate che io vi risponda con un'altra domanda. I motivi che spingevano Giovanni a insegnare in pubblico erano il fervore per la verità e la virtù, oppure egli aveva in questo delle intenzioni egoistiche. Coloro che lo avevano interrogato pensarono, se rispondiamo che fu per la prima ragione, allora Gesù ci chiederà di nuovo perché non gli avete dato ascolto. Se invece rispondiamo che fu per la seconda, allora ci metteremo il popolo contro. Così essi risposero di non saperlo. Dunque, disse Gesù, nemmeno io sono in grado di rispondere alla vostra domanda, ma per una volta giudicate voi. Un uomo, che aveva due figli, disse a uno di loro di andare nella vigna e lavorare. Questi gli rispose che non ci sarebbe andato, ma poi se ne pentì e andò. Lo stesso ordine dette il padre al secondo, che dimostrò pronta volontà e promise di andare, ma poi tuttavia non andò. Quale dei due ha dunque mostrato di ubbidire al padre? Essi risposero, Il primo? Allo stesso modo, riprese Gesù, accade tra di voi. Uomini che accreditavano in generale la fama di essere eticamente corrotti, all'invito di Giovanni, hanno ascoltato la voce della virtù e adesso sono superiori a voi nel buon sentimento. Voi che avete sempre sulla bocca il nome di Dio e affermate di vivere al suo servizio soltanto. Gesù raccontò loro ancora un'altra storia. Un uomo impiantò un grande vigneto. Lo cinse con dei muri a difesa e lo diede da coltivare a dei vignaioli. Poi se ne andò via. In autunno, mandò gente a prendere quanto il vigneto aveva prodotto. Essi però furono maltrattati in ogni modo possibile dai vignaioli. Altrettanto avvenne agli altri che furono inviati dal proprietario del bene. Nella speranza che essi avrebbero avuto rispetto di suo figlio, egli mandò proprio lui. Solo che i vignaioli pensarono che quello era l'erede e che con la sua morte essi sarebbero entrati nel pieno possesso del bene. Così essi uccisero anche lui. Cosa farà dunque il padrone del vigneto? Chiese Gesù agli astanti. Che risposero? Egli punirà i vignaioli con la severità che meritano e darà ad altri il vigneto dai quali poi riceverà giustamente i frutti. Così, disse Gesù, i giudei hanno avuto la fortuna di acquisire, prima di diverse altre nazioni, i concetti più degni della divinità e di ciò che è sua volontà verso gli uomini. Ma voi non producete i frutti che rendono l'uomo gradito agli occhi della divinità. Per questo è vana illusione il credervi per questa sola preferenza prediletti dalla divinità. Ed è un delitto a maltrattare gli uomini che sentono e che vi dicono che c'è qualcosa di più alto che dà all'uomo un autentico valore. I membri dell'Alto Consiglio che avevano dato occasione a un tale rimprovero nei loro confronti avrebbero messo subito le mani addosso a Gesù se per via del popolo avessero usato tanto. Alcuni giudei greci, anch'essi venuti per la festa, volevano parlare a Gesù e quindi si rivolsero ad alcuni degli amici di Gesù perché gli chiedessero come sembra un colloquio privato. Gesù non dimostrò come sembra nessun compiacimento pensando che essi portassero con sé le consuete idee dei giudei sul Messia e che volessero raccomandarsi per tempo a lui come futuro re e signore dei giudei. A questo riguardo egli disse in quest'occasione ai discepoli questi uomini si sbagliano se mi attribuiscono l'ambizione di innalzarmi a Messia siccome ne aspettano uno e se credono che desideri farmi servire o che mi senta lusingato perché essi si offrono di aumentare il mio seguito se ubbidiscono alla santa legge della loro ragione allora siamo fratelli di una sola società se essi ritengono che siano i miei fini il potere e la fama allora disconoscono l'elevato destino dell'uomo ovvero credono che io lo disconosca come un seme di grano gettato nel terreno da prima muore perché il suo germe possa dischiudersi in uno stelo io non pretendo di vivere i frutti di ciò che è stato il fine del mio lavoro così come anche il mio spirito non compie il suo destino nell'involucro del mio corpo per preservare questa vita dovrei diventare infedeli a ciò che riconosco come dovere io vedo con tristezza dove portano i complotti dei reggitori di questo popolo essi vogliono privarmi della vita ma per questo io dovrei chiedere a Dio o pregarlo padre salvami da questo pericolo no perché la mia fatica per chiamare gli uomini al vero servizio della divinità alla virtù mi ha portato in questa condizione ed io sono pronto a sottopormi a ogni conseguenza che ne possa derivare se questo contraddice ancora le vostre attese poiché vi aspettate che il messia non debba morire allora per voi la vita è in sé qualcosa di così grande e la morte qualcosa di così terribile che non potete metterla d'accordo con un uomo che dovrebbe meritare il vostro rispetto ma pretendo poi io rispetto per la mia persona o la fede in me oppure voglio imporvi un criterio per valutare gli uomini e giudicarli come se fosse una mia scoperta no rispetto per voi stessi fede nella santa legge della vostra ragione e attenzione per il giudice che avete nel petto per la coscienza un criterio che è anche il criterio della divinità questo ho voluto risvegliare in voi allora alcuni dei farisei e dei cortigiani della casa di Erode furono di nuovo inviati da Gesù per attaccar discorso con lui e poter trovare così un motivo per accusarlo di fronte all'autorità romana per capire quanto capziosa fosse la questione e con quale facilità Gesù avrebbe potuto mettersi in urto con quell'autorità o con i pregiudizi dei giudei bisogna tener presente la mentalità giudaica che trovava del tutto intollerabile versare i tributi a un principe straniero perché quei tributi essi li volevano versare solo al loro Dio e al loro Tempio gli inviati gli parlarono dunque così sappiamo maestro che sei sincero in quel che dici che ti attieni alla verità immutabile e che non affermi mai niente per compiacere qualcuno dici dunque è giusto che noi paghiamo imposte all'imperatore romano Gesù capì la loro intenzione e disse voi ipocriti che cosa cercate di tendermi una trappola mostratemi un denaro di chi è questa immagine e la scritta che porta attorno essi risposero di Cesare se dunque voi riconoscete a Cesare disse Gesù il diritto di battere la moneta che vi serve allora date a Cesare ciò che è di Cesare e al vostro Dio ciò che è richiesto per il suo culto essi dovettero accontentarsi di questa risposta senza potersi appigliare a niente anche i Sadducei una setta giudaica che non credeva all'immortalità dell'anima vogliono mettere in campo le loro convinzioni con Gesù e gli dissero secondo le nostre leggi un uomo il cui fratello muore senza figli deve prendersi la vedova rimasta sola ora è successo che una donna in questa maniera è stata presa in moglie da sette fratelli uno dopo l'altro perché uno dopo l'altro sono morti senza aver figli da lei di chi dovrebbe essere dunque la donna se gli uomini continuassero la loro vita dopo la morte Gesù rispose così a questa sciocca obiezione in questa vita gli uomini si sposano di certo ma gli immortali entrati nella società degli spiriti puri lasciano cadere con il corpo anche questi bisogni anche un fariseo che aveva sentito le felici risposte di Gesù alle domande di costoro chiese a Gesù a quanto pare senza alcuna cattiva intenzione quale fosse il principio primo della dottrina etica Gesù gli rispose c'è un solo Dio e tu lo devi amare con tutto il cuore e dedicare a lui la tua volontà a tutte le tue forze questo è il primo comandamento il secondo è del tutto uguale al primo per l'obbligo che impone e dice ama ogni uomo come se fosse te stesso un comandamento più alto non c'è il fariseo ammirò quest'eccellente risposta e riprese tu mi hai risposto secondo verità consacrare a Dio tutta l'anima e amare il prossimo come se stessi è più di tutte le offerte e gli incensamenti Gesù si rallegrò del buon sentimento dell'uomo e gli disse in questo sentimento non sei molto lontano dall'essere un cittadino del regno di Dio dove si deve ottenere il suo favore non con le offerte o le penitenze o una professione verbale o con la rinuncia alla ragione in una parte del tempio si trovava una cassetta dove venivano messe le offerte Gesù osservò che tra coloro che davano un contributo accanto ai ricchi che versavano grandi somme anche una povera vedova aveva lasciato due monetine egli allora disse questa ha lasciato più di tutti gli altri infatti tutti gli altri hanno dato prendendolo da ciò che hanno in più ma questa ha dato tutto ciò che poteva nel suo poco in occasione di questi tentativi dei farisei contro Gesù egli credette opportuno mettere in guardia il popolo e i suoi amici dai farisei i farisei e gli scribi disse si sono seduti sul seggio di Mosè le leggi dunque che essi vi impongono di osservare osservatele ma il loro esempio il loro modo di agire non seguiteli le loro azioni hanno il solo scopo di darsi una parvenza esteriore di onestà voi consumate il bene delle vedove e con il pretesto di pregare insieme vi approfittate di loro voi siete simili ai sepolcri imbiancati dipinti all'esterno mentre all'interno alberga la putrefazione esteriormente vi date l'apparenza della santità ma la vostra interiorità è l'ipocrisia e l'ingiustizia egli poi elencò ancora alcuni tratti che già aveva biasimato in loro in tutte le occasioni che gli si erano presentate mentre passeggiavano tra le diverse parti del tempio gli amici di Gesù si soffermarono sulla sua magnificenza Gesù disse in proposito di avvertire il presagio che quel pomposo culto della divinità e quello stesso edificio fossero giunti alla fine gli amici di Gesù ne restarono molto colpiti e quando poi si trovarono da soli con lui sul monte degli ulivi dal quale potevano avere la veduta sul magnifico edificio del tempio e sulla gran parte della città gli chiesero quando accadrà ciò di cui ci parlavi prima e da quali segni potremo riconoscere il compiersi imminente del regno del Messia Gesù rispose loro questa attesa di un Messia farà cadere la mia gente in gran pericolo e insieme con gli altri loro pregiudizi e la loro cieca ostinazione li seppellirà nella distruzione totale questa attesa chimerica farà di loro lo zimbello di scaltri truffatori o di sognatori senza testa fate attenzione a non farvi trarre in errore anche voi per questo si sentirà spesso dire che l'atteso Messia è da questa o quest'altra parte molti si faranno passare per il Messia con quel titolo si metteranno alla guida di rivolte e a capo di sette religiose annunceranno profezie e faranno miracoli per indurre all'errore se possibile anche i buoni si sentirà spesso dire là nel deserto si mostra il Messia che attendiamo qui si tiene ancora nascosto nelle cave non lasciatevi indurre al loro seguito simili presunzioni e voci daranno motivo a rivolte politiche e a divisioni della fede si prenderà partito e con spirito partigiano l'uno odierà l'altro e lo tradirà credendo di essere autorizzati a sacrificare a questo cieco zelo ai nomi e alle parole i doveri più sacri dell'umanità la rovina dello stato la dissoluzione di tutti i legami della società e dell'umanità e al loro seguito peste e carestia trasformeranno questa terra infelice nella facile preda di forestieri ostili guai allora alle donne gravidi e ai lattanti non fatevi indurre a prender partito in queste tempeste molti saranno contaminati da questo spirito fraudolento senza saper bene anch'essi come sia successo e trascinati nel vortice si allontaneranno passo dopo passo dalla moderazione e si vedranno infine coinvolti nei misfatti e nella rovina del loro partito senza possibilità di tornare indietro fuggite fuggite piuttosto se vi è possibile da questo scenario disfaccello e senza amore sottraetevi a tutti i rapporti familiari non indugiate a occuparvi di questo quello o a salvarlo e in ogni caso restate irrimovibilmente fedeli ai vostri principi il vostro spirito da zelotti può anche assalirvi e maltrattarvi ma predicate la moderazione esortando all'amore e alla pace senza interessarvi a nessuno di questi partiti religiosi e politici non crediate di veder compiersi il piano della divinità in tali ammassamenti o in leghe che fanno giuramento nel nome e nella fede di una persona quello non si limita a un solo popolo a una sola fede ma abbraccia con amore imparziale tutto il genere umano potrete dire che questo piano è compiuto non quando il culto di nomi e parole ma il culto della ragione e della virtù sarà riconosciuto e praticato su tutta la terra la ferma visione di questa speranza dell'umanità e non la vana attesa nazionale dei giudei vi conserverà liberi dallo spirito settario e altrettanto sempre retti e coraggiosi in queste divisioni la vostra serenità e il vostro coraggio siano fondati sull'immutabile virtù guardate che non si insinui nel vostro cuore una quiete falsa e indolente fondata sull'attaccamento a formule di fede sulla professione formale sull'osservanza puntuale delle cerimonie di una chiesa sarebbe quasi come quando dieci vergini aspettavano con le lampa dello sposo che portava in casa la sposa di loro cinque si erano per buona sorte procurate l'olio ma cinque stolte avevano trascurato di portarlo quando dopo una lunga attesa a tarda notte arrivò finalmente lo sposo esse vogliono andargli incontro allora le cinque che non avevano olio vogliono comprarne in tutta fretta ma le altre non poterono cederglielo perché ne avevano solo a sufficienza per loro mentre quelle erano assenti arrivò lo sposo e le cinque sagge lo accompagnarono in casa per il banchetto nuziale mentre le altre che contavano di essere invitate ma che per parte loro avevano mancato in una cosa essenziale furono escluse così dovete credere anche voi che non è sufficiente aver abbracciato una fede se poi lasciate che vi manchi ciò che è più necessario l'esercizio della virtù e poi in caso di necessità o quando la morte si avvicina aver raccolto frittolosamente alcuni buoni principi oppure pensate di abbellirvi per merito di altri cosa di cui ciascuno ne ha sufficienza per sé e non può concederne ad altri voi non potrete presentarvi solo con la vostra fede chiesastica e contando sul merito altrui di fronte al santo giudice del mondo io paragono il suo giudizio al giudizio di un re che raduna i suoi popoli e come fa un pastore con i montoni e gli agnelli separa quelli buoni dai cattivi a quelli egli dice avvicinatevi a me voi amici miei godetevi la felicità di cui vi siete resi degni infatti avevo fame e mi avete dato da mangiare ho patito la sete e mi avete fatto bere quando ero straniero tra voi mi avete accolto quando ero nudo mi avete vestito se ero malato vi siete presi cura di me in prigionia mi avete fatto visita ed essi pieni di meraviglia gli chiederanno signore quando ti abbiamo visto affamato o assetato per averti saziato oppure nudo o come straniero o malato oppure in prigionia per averti vestito accolto o visitato ma il re rispose loro ciò che voi fate al più piccolo dei miei come dei vostri fratelli lo ricompenso come se lo aveste reso a me agli altri invece voi allontanatevi e riceverete da me la ricompensa delle vostre azioni quando io avevo fame o soffrivo la sete voi non mi avete dato da mangiare né da bere quando ero nudo o malato o in prigione voi non vi siete presi cura di me anche costoro gli domanderanno dove ti abbiamo visto affamato e assetato o nudo o ammalato o in prigione per poterti rendere un servizio il re darà loro uguale risposta ciò che non avete fatto al più piccolo io lo ripago come se non lo aveste fatto a me medesimo così anche il giudice del mondo pronuncia il giudizio di condanna per coloro che onorano la divinità solo con le labbra e atteggiamenti devoti non nella sua immagine l'umanità